Giallo al carcere di Forni, dove il detenuto Giuseppe Buono, ex badante operaio accusato di omicidio, è stato trovato nel suo letto in un lago di sangue con ferite in diverse parti del corpo. Il 42enne di Baronissi è ora ricoverato a Ruggi di Salerno nel reparto destinato ai detenuti. Non è in pericolo di vita, ma si indaga per capire cosa sia realmente successo e come si sia procurato le ferite già piuttosto evidenti quando è stato trovato sanguinante in cella. L'uomo, proprio giovedì mattina, avrebbe dovuto presenziare a un'udienza presso il Tribunale di Nocera Inferiore in merito alla rapina e ai danni di due anziane di Baronissi risalenti a luglio dell'anno scorso nella quale una delle due donne perse la vita. Buono ex badante fece irruzione nell'abitazione di due sorelle, Maria Grazia e Adele Martino, di 91 e 87 anni. La sua intenzione era quella di rapinarle, ma la più anziana, colpita alla testa da una mazza di ferro, morì dopo pochi giorni di ricovero. Della rapina e dell'omicidio fu accusato il 42enne che era atteso in aula per l'udienza, rimandata date le circostanze al prossimo 6 luglio. Nella casa circondariale, intanto, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto successo al detenuto, senza escludere alcuna pista, compresa quella del gesto volontario.